Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di Toxicamera88 Oggi riprendiamo su Fallout 4 Allora, nello scorso video avevamo potenziato le nostre abilità Infatti abbiamo sbloccato nella tabella talenti Se mi fa scendere Hacker Puoi hackerare i terminali di livello difficile Quindi, prima di proseguire dobbiamo ritornare A Fort Hagen per terminare la zona E io ancora non ho tolto la barba ed è veramente seccante Ho questi baffetti che si vedono ragazzi ed è dannatamente seccante Ma tutto a suo tempo Comunque già siamo livello 20 ragazzi Io credo che già in 10 livelli riusciremo a potenziare abbastanza bene il nostro personaggio Mettendo abilità più o meno importanti Dobbiamo sbloccare hacker molto difficile Poi qualche potenziamento per le armi anche automatiche Ok Dobbiamo entrare Io non sento nulla Ok, adesso sento Attenzione, le radiation Le radiazioni Da dove si entrava Da dove si entrava Dovrebbe esserci un qualcosa per entrare qui vicino Ok Però bello l'effetto Ok, l'effetto di luce è veramente abbastanza gradevole Devo dire che mi piace Allora, dobbiamo entrare qui Ma passando da qui E ho scordato Se ho messo il pc in overclock Però vabbè Overclock tra virgolette Cioè è modalità standard In teoria io ho tre modalità Modalità risparmio energetico Modalità standard E poi modalità overclock personalizzata Però È rarissimo che utilizzi la modalità overclock A causa del collo di bottiglia Che si viene a creare durante la registrazione Tramite il programma Di registrazione Le capacità limitate del mio hard disk Adesso dobbiamo arrivare qui Però intanto Visto che c'è Questo Vediamo se possiamo creare qualcosa Acqua purificata Quindi possiamo farne ben due Così togliamo Se hai acqua sporca E via Posso fare altro Ma qui Facciamo anche questo L'utilità della carne di cane Un qualcosa che Ok Utilità Niente Perfetto Però almeno ci siamo alleggeriti Un pochino La tutina rosa è inguardabile Però vabbè Allora Voglio vedere se riesco a completare Fort Hagen Chi lo sa Non capisco perché non ci sono Nemici Mi sarei aspettato qualche sintetico Però naturalmente ancora non sono respawnati E vabbè Va bene Eccoci qui Posso questa volta? Credo proprio di sì ragazzi Ce l'abbiamo fatta Vediamo se ci sono delle parentesi Anche se Allora Utilizza il vecchio metodo Però volevo vedere se c'è Ecco per esempio questa Parola rimossa Grande Non ne vedo più forse Beh non mi va di perderci troppo tempo ragazzi Ecco il punto Per esempio Vediamo Ok andiamo così No Faccio prima così ragazzi Il vecchio metodo non funziona mai Bene Apri porta Accesso Serrature magnetiche Ottimo Adesso Prima di andare avanti Preferisco fare un salvataggio Qui Importante Così se ho problemi Col programma di registrazione Naturalmente Ripartiamo da qui ragazzi Abbiamo tutto Sbloccheggiato Allora Prendiamo Munizioni Un'altra scatola Quindi le abilità che io reputo Naturalmente Utili Sono Nel centro Si Scasso E Informatica A che raggio Fornelletto Ok E questa l'abbiamo sbloccata E va bene Adesso dobbiamo ritornare al tetto Anche se io Volevo riposare un poco Ma non posso perché le sedie sono occupate Non posso mandare avanti il tempo A mio piacimento O meglio Attendere a mio piacimento Ed è una cosa che Mi da fastidio Cioè devo trovare per forza la sedia Sedermi E fare Ah è una stronzata Faccio passare 12 ore Così siamo a posto Oggi invece Vediamo cosa fare Troviamo un'altra zona un po' Complessa E ci andiamo Mi piace andare in queste zone Crescere di livello E poi Dedicarmi alla Missione principale Che Dubito Sarà difficile Visto il livello Commonwealth Spettacolare Ti prego Dimmi che non c'è la tempesta Dimmi che non c'è la tempesta E comunque ragazzi Siamo arrivati a 240 iscritti Nature Ed è tutto merito vostro Il canale comincia a ingranare Piano piano Ma Devo dire che Non mi lamento Cioè Non è che Siamo Più o meno iscritti Eh adesso c'è iscritti Facciamo i cazzoni Non si è aperta Ma allora l'abbiamo completato? No Quindi c'è qualcosa Che non va Come mai? Allora Il bello di questa serie È appunto che Dobbiamo completare il tutto Sì ma io Sono sicuro che Allora Il campo caravan È apposto E questo è uno Andiamo nella mappa locale Vediamo Allora A noi manca un punticino Che Dovrebbe essere Questo Il centro di comando Spero tanto che Si è aperto da dietro E invece no Voglio completarlo Abbiamo il vantaggio Che non ci sono nemici Quindi salvo Salvataggino Rapido E vediamo di trovare La soluzione A questo Dilemma Mi sa che lì Si può andare Però non so come Lo scopriremo Insieme Non credo ci siano Queste relative Proprio a questa Sezione Però Abbiamo fatto Quasi tutto Abbiamo sbloccato Anche un terminale Sono salito di livello Appunto Per quel terminale Non mi trovo Il resto Allora Qui Lui mi porta Fortegen Vediamo E ci siamo Centro di comando Di Fortegen E come ci arrivo qui? Allora Salviamo E proviamo Una pazzia Dobbiamo scendere L'erba ha tutito Il mio peso Può darsi che Mi stia sbagliando Ragazzi E spero tanto Di sbagliarmi Ok Ci siamo quasi Dai Qualche terminale Proto Qualche terminale Proto Questo è Fortegen E questo è Centro di comando Di Fortegen Però Punto Prima e notte Già La fastidio Ci siamo Passero Un'oretta Diamo Una rapida Occhiata A tutto Fortegen Perché non c'è Nessun Terminale Nessuna cosa Che mi indichi Dove andare Ma voglio Terminarlo Dobbiamo fare Una serie Dove esploriamo Tutto E possiamo Farla Tranquillamente Però abbiamo Le abilità Ragazzi E quella È una cosa Importante Però Terminale Questo non lo Possiamo Utilizzare Come vedete È un luogo Esterno Perché Da qui Non possiamo Raggiungere Il centro Di comando Vedete Quindi è tutto Abbastanza Rudimentale Cioè È semplice Però non possiamo Raggiungerlo E questo è un problema Adesso Voglio ritornare One moment Nella sezione Può Può darsi che Abbia Ho messo Qualche Passaggino Dai Qualche cosa Ci deve Pure essere Ragazzi Quello che Cos'è Nulla Nulla Che possa Interessarci E non capisco Come raggiungere Il centro Di comando Tu ne sei Qualcosa No ragazzi Abbiamo sempre Il solito Problema Non sappiamo Dove andare Il centro Di comando Di Forte Si sta Rivelando Veramente Fastidioso Innanzitutto Proviamo a Riuscire Più di questo Non possiamo Fare Spero Tanto Che abbia Veramente Messo Qualche Terminale Così Siamo A posto Il ventilatore Posso Prenderlo Grazie Sto Cercando Veramente Di tutto Ragazzi Solo Per voi Soltanto Per farvi Vedere Come si Completa A questo Posto Ma La vedo Dura Molto Dura Perché Non so Dove Andare Preferivo Quando C'erano I nemici Almeno Ragazzi Non Adesso Non posso Non credo Ci sia Un'abilità Per buttare A terra I muri Anche se Questi Non mi Dite Che ci vuole Un'altra Abilità Perché Sarebbe Veramente Stupido Cioè Dopo Che Ho Preso A caraggio A livello Difficile Mi Venite A dire Che Non posso Fare Nulla Sclero Portablocco Scrivania Ragazzi Non c'è Niente Io Non so Dove Andare Cioè Non so Come Sbloccare Quella Maledettissima Porta Stupida Allora Se io salgo Da qui Allora Io ci provo Un'ultima Volta Proprio Se la vedo Brutta Non voglio Perderci Troppo Tempo Con voi Comincio A girare Offscreen Se proprio Mi vedo Bloccato Sarò Costretto Controllare Online Però Se qui Tu mi dai Un centro Di comando Giusto E io Ci vado Perché Adesso Cioè Per quanto Possa essere io Stupido Allora Centro Di comando Me lo Da qui Dietro Allora Io Io qui Cosa Vedo Una Porta Presumo Che si Possa Entrare Presumo Ok Se io Scendo Da qui C'è La Porta No Perché Non c'è Pizza Niente Se io Vado Da qui Non so Ragazzi Veramente È seccante È frustrante Perché non so Dove andare Adesso Sapete che vi dico Io Ritorno One moment Allora Vediamo come siamo messi Nell'inventario Siamo leggeri Quindi possiamo proseguire Togliamo la mappa locale Andiamo a esplorare La zona più avanti C'è questo Ospedaletto Che cos'è Non so cosa sia Esploriamoci qui Clinica Greater Mass Ok Stiamo nelle vicinanze Per ora Anche se Francamente Mi scusi Ha le ali Eliminata Sono diventato Di un altro colore Dove sei? Sì ma non è Quello è il punto Sto cercando Una sedia Dove Sono in combattimento Sì ok Un bug Alieni Io odio ragazzi Dover Affrontare Il gameplay Durante la notte Posso aspettare No Dai Alzati Ecco guardate Non mi mira le ali Devo fare Devo perdere tempo Su prole Questa è una cosa Bruttissima Inutile che Veramente C'è Ero lì vicino Se tu mi metti E lo ripeterò Se tu mi metti E lo spov E a tempo Tipo Moviola Tipo Matrix E poi Non mi dai la possibilità Di mirare Allora sei Stupido Cioè Veramente Stiamo scherzando Stiamo dicendo Stronzate A raffica Perché il senso Non ce l'hanno Queste cose Prendiamo tutto Intanto Radix Cane Non mi interessa Oh Soldi Certo A nascondere qui Delle riviste Sarebbe veramente Oh Guardate qui Cosa c'è Andiamo Andiamo là dentro Oh Che bello Guardate il giorno Ragazzi La luce Che c'è Il cane Ah Grande Il cane A volte Però Allora Come vedete Il cane Ha molti più Problemi Degli altri Che non ti permette Di selezionarlo Cioè A volte Rompe Le scatole Proviamo con le ali Ok Naturalmente Mi faccio colpire Noto Con mio Rammarico Che la difficoltà Sopravvivenza Su alcune zone Fa veramente pena Cioè Guardate qui Ho subito Un attacco Frontale A inizio Gioco Mi avrebbero Devastato Adesso Mosche Erano E mosche Rimangono Terminale Ok Andiamo qui Per fortuna Ragazzi Che ho preso Queste Questa abilità Almeno Fino a quello Difficile Ci arriviamo E fate sempre Così Non cominciate A fare le solite Bagianote Delle Parentesi Cazzo e mazzi Perché Uscendo E rientrando Riavete i tentativi Posso? Posso? Sono sicuro Che adesso La clinica La terminerò Ragazzi Uh Bello Bello Vediamo cosa c'è qui Sacche di sangue A volontà Giornale Di chirurgia Del Massachusetts Perfetto Hai trovato Un numero Di giornale Di chirurgia Del Massachusetts Infliggi Permanentemente Più 2% Danni agli arti Bella questa abilità Avrei preferito Un po' più di più Un po' più di danno Però Non Non facciamo i cazzoni Va bene così Ce lo facciamo bastare Il becco Becker Beuta Beuta grande Supporto per becker Possiamo fare tipo Un laboratorio Chimico Uh Cassaforte è difficile E qui c'è un terminale Prima apriamo la cassaforte Perché se il terminale È collegato alla cassaforte Poi lo sblocchiamo la porta E perdiamo l'esperienza Ergo Adesso che è difficile E qui pure ragazzi Dovete fare Esci e rientra Provate la combinazione Bene Pistola Non ci serve Il denaro Si E anche le Munizioni Così abbiamo preso L'esperienza Da qui E mi si è buggato Il gioco Vero? No Non si è buggato Fantastico Perfetto ragazzi Sta andando tutto bene Ragazzi vi giuro Allora Comandi della cassaforte Come vedete ci sono qui Possiamo anche Bloccarla O sbloccarla Ma quello che a noi ci interessa È leggere qui Questi sono Prima della guerra Voi dovete guardare Sempre questo 77 Non ci sarà mai il 78 Almeno credo Tutti i risultati relativi Al gen Generale Martin Vanno come normale O eccellente Tutti i risultati Del personale di Bavan Ok Ah bellissimo Benissimo La licenza è scaduta 2512 Mesi fa Per assistenza Contattare il reparto Tecnologico O il supervisore Bellissima questa Una piccola Bello Anche io voglio una porta così Ma non abbiamo terminato Dovrebbe essere anche Il piano di sotto E il piano inferiore Devo dire che però Questa zona Ragazzi Mi piace Anche se è un po' Difficilotta Saccheggiatore Con il cappello Da capitano Dammi i tappi Cartuccia E fucile da combattimento Che prendo molto volentieri Tappo Munizioni Cappello Della guardia costiera No Carabina La prendo pure Non vedo l'ora Ragazzi Di migliorare Ulteriormente Le mie abilità Così mi faccio Un fucile da combattimento Se possibile Manuale E uno automatico Ok Qui abbiamo esplorato Quasi tutto Però possiamo andare Anche lì Dove ci sono Degli steam pack Invece la cosa Che mi lascia La mare in bocca È non riuscire Non Aiuta a difendere Tempin buff Ma per me Può andarsi A far Benedire Dove sono Dove sono Dove sono Quello abbiamo completato Scusi Può indicarmi Questa Andiamoci ragazzi Vediamo Ragazzi Io ci ho provato Però Darvi una mano Ma naturalmente Non è possibile Eccoci qua Un'altra carabina Questa è la porta Dall'altro lato Ragazzi Ci ho provato Io ad andare lì Però Almeno Vi faccio Vediamo come si difende Dai Se la facciamo Non posso andare E allora Andate a quel paese Perché non mi va Di essere preso In giro Da questo stupido Da lì Si ci può entrare Credo Proprio di si Ma Se c'è la porta Non si ci può entrare C'è anche lo scantinato Interessante Questa zona Questa zona È veramente strana Ecco qua E va Fan cuore Che mi sono Blockage Non ci credo Che mi sono bloccato Mi sono Buggato Dai che Non è vero Ce l'abbiamo fatta I pro Ragazzi Allora Se Mi danno una quest Ragazzi Dove andare a difendere Un posto E io non ci posso andare Per motivi che Qui Se io clicco Qui Adesso ci va Non lo so Il gioco Va per i fatti suoi A me non interessa Ma comunque Voglio esplorare bene Quella clinica E Nel prossimo video Perché questo Non lo voglio fare durare Tanto Faremo un'altra zona Anche se Ho giocato poco Chi c'è Chi c'è Super mutante Arrestoso Dove siete Veramente Proprio Bah Facciamo così Ragazzi Diciamo Voglio evitare Di dire parolacce Non mi va di arrabbiarmi Però Ho quel nodo Alla gola Di Forte Che ragazzi Che voi non potete Nemmeno immaginare Cioè Voglio capire Come si apre Col centro di comando Però senza Andare da A cercare Soluzione online Un attimo Un attimo Non ho un caricamento Rapido No Non ce l'ho Carica questa Grazie Da qui ci dobbiamo andare Ragazzi One moment Perché ho anche Un cane Nella mia stanzetta Il mio cane Che deve uscire E rieccomi qui Quindi Cagnolino Portato fuori Un attimo Un attimo Salviamo qui Qui c'è Il campo da basket Veramente La cura Per i dettagli È un qualcosa Di veramente Gradevole Andiamo ad aiutare Temping buff Anche se Non riesco a capire Una cosa Ragazzi Ok Poniamo per assurdo Che conquistano Temping buff Ci sono altre fazioni Sappiamo che noi Facciamo parte Dei minute man E le altre fazioni Cosa sono Super mutanti Hanno un nome Preciso Hanno un nome Specifico Qualcosa del genere Ce l'hanno Ah vabbè Ecco Questa cosa È da Merda Questa cosa Non l'ho capita Allora Io arrivo qui E c'erano Tutti pronti Ad aspettarmi Ok Se per caso Devo difendere Temping buff Mettimi In una posizione Giusto Non è che dovevo andare Alla stazione satellitare Olivia Per poi farmela a piedi Giusto ragazzi Ho un ragionamento Corretto Perché Non ha senso Io arrivo lì Difficoltà massima Ti uccidono E tu devi ricaricare E perdi tempo Quello lancia granate Via Poi Questo fatto Delle granate Un colpo Muori Va bene Mi sta bene Però cavolo Sti super mutanti Hanno una mira Di dio Cioè Un colpo È già di uccidere Io adesso Ricarico Perdo tempo E mi stanco Ergo Io il video Lo faccio finire prima Perché naturalmente Già mi rompo le scatole Veramente Alcune cose Sono fatte troppo stupide E danno veramente Vastidio Perché arrivati a questo punto Io adesso cosa faccio E arrivo qui Rimetto il mio fucile Non vedo l'ora Di prendere Un fucile Come gli esseri umani Adesso voglio provare Una cosetta Dov'è il posto È qui Ci vado dall'avamposto Zimonia Che arma è questa Lo spara chiodi Una versione faiga Dello spara chiodi Che su fallotto 3 È un'arma bellissima Anche perché impala Gli arti Dei nemici Soprattutto Se spalate vicino ai muri E cose varie Ok Dobbiamo andare A dare supporto Lì Mi metto il fucile Azzola C'è chi Naturalmente è notte Non posso fare Avanzare il tempo E questa è una cosa Che a me rode Dà troppo fastidio Ragazzi Non ci posso fare niente Qui in mezzo al nulla Dove trovo io Però abbiamo la versione La visione notturna Eccoli qui E ti prendo da qui Stupido E ti prendo Stupido Ah Cioè guardate la distanza E dai I vantaggi di essere Dei cecchini Con il visore notturno Sono questi Però non riesco A prenderlo C'è troppo Rinculo Chi cazzo è che mi colpì Non vedo Io non capisco Ah da lì Mi sparano Finalmente Arrivati a questo punto Cioè guardate che mira Che hanno loro Ragazzi È veramente Troppo stupido Però Dammi un po' di acqua Eeeh Dov'è 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 La new cola Non la utilizzerò mai Non l'ho mai utilizzata Una bottiglia di new cola Figuratevi se la utilizzo adesso Cioè guardate Io ho una mira Precisissima Piano piano Mettiamoci più distanti Sì ma due Perdi il danno Cioè loro hanno una mira Di un cecchino Ok Bellissimo Questa è strategia Ad cazzo Salvo E dai Morici Non facciamoli scendere Troppo È successo un danno Però fortunatamente Non ho bisogno Di tagliare In poche parole Vabbè Non mi colpiscono Tanto Guardate che mira Ragazzi Però mi sto ricaricando Mi sto divertendo A cecchinare Questi stupidotti Ecco Loro si nascondono Nella speranza Che la notte Li protegga Ma Io salvo E riparto Alla carica Questa volta Vado io All'attacco Potrei anche Utilizzare Questo scarso Dai Facciamo una cosa Veloce Cazzo Eh no no Dove siete Ecco 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 Avete visto Cosa ho fatto Stavo per lanciare Una granata Del cazzo Fuori un altro Ne manca uno Pistolina Ok Qui c'è tipo La pila di cadaveri Prendiamo le munizioni E basta Eh ma Loro utilizzano Ragazzi Munizioni Da 38 mm Io consumo Le mie Questa è una cosa Che non mi piace Quanti siete Cosa è successo Mi hanno menomato A un braccio Là ci sono anche I cani Bellissimo Ragazzi La stiamo prendendo In quel posto A mani estreme Estremi rimedi Prendiamoci anche Uno steam pack A volontà Anche due Dove siete Ci siamo ripresi Con il braccio Vai lì Dogmit Cane farà Capo 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 Branco Cavolo Da qui non lo prende È bellissimo Cioè se non è Dai Perchè ti bughi Ma morici Stupido Ce n'è un altro Ed è quello più pericoloso Giusto Però ragazzi Mi piacciono Queste missioni Anche se francamente Per come la vedo io Non servono assolutamente Un cazzo Sì ok Ho capito Che sei un cane Aia Le gambe Dai Veloce Amorici Cosa mi dai In più Collare per cani Carino Ma non ho intenzione Di metterlo Al mio Ok Ritorniamo All'ambaradam E vediamo Di terminare Almeno Anche perché oggi Avevo intenzione Di fare Fortegen E qualche zona Limitro Fortegen Lo Termineremo Non vi preoccupate Peccato soltanto Che non riesca A sbloccare Quel centro Di comando Poi alla fine Sarà una cavolata Però Noi abbiamo Una pistolina Di legno Non vedo l'ora Di potenziare Le mie skill In maestro Armaiolo Per creare Armature E armi Molto più potenti Perché noto che Avendo delle armi Potenti Il gioco Diventa molto Semplice E Veramente Su certe cose Non le capirò mai Naturalmente Aspettiamo Dobbiamo andare Dall'altro lato Ragazzi Non so come Si ci arrivi E c'è un'altra C'è l'insetto Di tre giorni fa Che ancora è qui Si ma Non per essere Fastidioso Come Ah Adesso mi da Qui che posso Entrarci Bella questa Prima non me la Non me la Dava E mi ha rotto Pure la forcina Se guardate Il video A inizio video Noterete Questo piccolo Dettaglio Insolito Ma come Inizio video Non entri Allora Se per caso Non riuscite A entrare In questa porta Sappiate Che dovete Ricaricare Ricaricate La pagina E il gioco Oppure Il salvataggio E morici Stupido Ok Sedia Allora Andiamo qui Artigianale Pistola Carne Prendiamola Posso dormire Nel letto Perfetto Quattro ore Così si fanno Le otto del mattino Ed è giorno Terminiamo Questa zona Così io Lo metto nel titolo Perché Per chi non lo sapesse Io faccio Il video Zona per zona Oggi abbiamo esplorato Fortegen Abbiamo controllato Fortegen E tutto il resto Per vedere se potevamo Sbloccare il centro Di comando Ma non è stato possibile Quindi adesso Cosa faremo Completiamo Questa zona Io farò Un giro Off screen Così Non vi faccio Perdere tempo Abbiamo Anche Fatto una missione Di difesa Della nostra Cittadina Di un nostro Accampamento Anche se francamente Ragazzi Non riesco a capire Se ci attaccano Il posto Tutta questa Importanza Io non ce la vedo Forse mi sbaglio io Forse no E dai E dai Sono dentro Sono dentro Protocollo Per gli esami Per gli esami del sangue Password Della clinica Va bene Clinica del sangue Ok Rassicurato Il paziente Ok La password Perfetto Registri degli esami Ce ne sono un bel po' Generale Esami di routine Elevati Elevati di glucosio Colesterolo In linea con gli esami Elevato il rischio Di diabete Si consiglia dieta E questo è vero ragazzi Glucosio e colesterolo Sono veramente Un dito in quel posto Parlo per esperienza Personale Carenza di vitamina Quindi mangiate bene Regolatevi Elettrocardiogramma Perché poi Quando andrete al pronto soccorso Per un dolore ai reni Per un dolore da qualche parte Dovrete aspettare Minimo 8 ore Non è bello Ok Alcune cose possono sembrare Banali Per esempio Uno dice Io mangerò sempre dolci Tanto non in grasso Tanto la glicemia Schizza a livelli Malattie Sessualmente trasmissibili Va bene Ma è negativo Se schizza la glicemia Ragazzi Siete in alto mare Dosate bene Il vostro tempo Perché È quello che mangiate Ho messo le sostanze Ecco Questo è importante Nell'ultimo Ho messo le sostanze Nella stanza di deposito del sangue Nel seminterrato Sono nel secondo frigorifero Terzo ripiano Scaffale in basso Il contatto Si aspetta di averle stasera Va bene Cancello questo messaggio E qui c'è il penultimo Paternità Prenatale Analisi Pressoché con il paziente Ah In poche parole Il generale Se la faceva con questa Va bene Credo fosse la moglie Quindi Parlando di cibo Io Adesso mi metto in un Modalità seria Con tanto di musichetta Non è vero Perché Fumetto di grognac Bruciato Naturalmente per il bambino Quindi Mantenete sempre Una corretta alimentazione Lo consiglio sempre Non per fare Il cazzone Ma nel momento in cui Cominciate a passare guai Per colpa Della cattiva alimentazione È veramente uno schifo Oh mio dio Bellissimo Togliti Quello che cazzo è Salviamo perché c'è qualcosa Di grande Cattiva È sangue infetto Se E infatti No 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 Ma Cristo Dio Dopo 30 minuti Veramente Mi fanno impazzire Queste cose Bestie Ma è grosso E fa impressione Mamma mia Una cosa del genere Io la odio Cioè Se vedessi una cosa del genere In real life Scapperei Con la coda Tra le gambe Punto Prima perché fa Un rumore strano Fa E già Fa senso di su No Seguimi fuori Fuori è meglio Puoi uscire Che mi fa impressione Mamma mia Io queste cose le odio Ragazzi Vi giuro Vero Ok A mani estremi Estremi rimedi Esci testa di cazzo Esci Le ali Le ali Attacca le ali Tanto di Vabbè Adesso si è buggata Prima mi aveva aperto In due Ma veramente Una cosa Che schifo è No ma che Ma che schifo Ma veramente Ragazzi Sto per vomitare Ma che cazzo Cioè ma Vedi solo la cosa Che faceva impressione Sembravano di quegli scarafaggi Al muro Oh mio dio Ok Fate così E ve ne uscite subito Ah Ma veramente Ma veramente Scherziamo Cioè mi mette un insetto Che fa così impressione Prendiamo tutto Qui La tannica Di antigelo E non credo Ci sia più nulla Mamma mia Cioè io pensavo Ok Qualche cazzata Fungo mentale Un fucile diverso Il slinger Prendiamolo Microscopio gigante E non c'è altro Cioè Sapevo di una scorta Di medicinali One moment Munizioni A volontà Ok Ho troppo peso Non posso correre Cane Ehi Gli do qualcosa Che non uso Anche Direi qualche Carabina Da combattimento E Questo Va bene così Dai Spascia il ginocchio Dai Va bene così Voglio soltanto Controllare Mentas Radix Ci sono tantissime Sacche di sangue Contenitori Di sostanze Questo è quello Che ci interessa Però Devo dire Che mi sta impegnando Anche questa clinica Pensavo All'inizio Vabbè Sarà un luogo Di 5 minuti E basta Anche se ci metto La missione E vaffanculo Vai a fare in culo Io lo dico sempre Voglio evitare Di dire parolacce Ma quando vedo Certe stupidaggini Veramente Non posso Fare almeno di Dammi tutte le droghe Dammi tutto 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 Ok Credo che adesso Sia completo Così adesso Possiamo andare A posare tutto Io prendo tutto Cane Ehi Bellissima Speciale Sopravvessuto Ah si Quello di Ah ragazzi Una cosa importante Prima che lo dimentichi Il paladino Che ho ucciso Nello scorso video Si poteva Arruolare Poteva diventare Un nostro compagno Se ce lo Leavamo Prima la confraternita D'acciaio E cazzi e mazzi Naturalmente Non è stato così Ma questo è lo spirito Dell'esplorazione A random Ed è bello così In compenso Ho ottenuto Un fucile laser Che Da potenziare E molto più avanti Quindi c'è scienza E tutto il resto Ma comunque Completato Yes Ci manca soltanto Fort Hagen Da fare Nel prossimo video Che io adesso Farò da solo Adesso ci possiamo anche Salutare Perché è stato Un bell'appuntamento E Devo registrare adesso Dark Souls 2 Sarà veramente Difficile Perché Ok che ho ripreso A giocare a Dark Souls 2 Però La vedo dura Molto Molto Dura Ma non mi preoccupa Più di tanto Ce la faremo Ragazzi Siamo dei pro E Trasferiamo tutto Deposito a tutti i materiali Andiamo a posare La nostra Ma tu che utilizzi Le mie cose Non è che Va bene Ok Granate No Questo no Ecco Devo ricordare Che Le pistole Il mio vestiario Questo Questo Dovrei venderle Ma Preferisco Fare le cose Con calma E Dopo Per ora I soldi Possono anche Aspettare Il nuovo Scoiattolo Oh mio dio Pezzi Dove è il cane Ehi Dammi le mie cose Cane Però devo dire Che è stato Un bel Un bel episodio Buon momento La carabinia di combattimento Ce l'abbiamo E questo Quello che Mi interessa Cosa ci serve Per portarlo Al massimo Allora Castello automatico Potente Allora ci serve Grado 3 Infolatico di armi Guardate i danni Mamma mia Grado 3 Grado 3 Ok 3 3 E va bene Un medino normale Non mi serve Proprio Questo è troppo Faigo Perfetto Grado 3 Prossimo video Se ce la facciamo Controlliamo i talenti E ci salutiamo Come vedete Preferisco Giocarmi Così Fallout 4 E mi diverte di più Non mi da nessunissimo Problema Questo non l'ho mai utilizzato Direi che siamo A posto così Controlliamo Un attimino E poi ci salutiamo Fanatico di armi Questo è importante Livello Possiamo prenderlo I fucili Non automatici Ci infliggono Il 60% Quindi Alla fin fine Dovremmo arrivare Tipo all'80 Il doppio di danno Arma iolo Importantissima E dove è fanatico di armi Eccolo qui Sì Questo dobbiamo prendere Ragazzi Hai accesso alle modifiche Per armi di grado 2 Dovrei arrivare Vediamo Per grado 3 E poi grado 4 Quindi One moment Ah livello 25 Brutto Però possiamo prendere questo E questo Errante solitario E questa di cui mi piace Ragazzi Non mi servono Quando viaggio senza un compagno E veramente Cioè Prendere tutte queste skill Ragazzi È possibile Ma con molto tempo Ma comunque ragazzi Oggi abbiamo visitato L'ospedale Vicino a Fort La clinica Clinica Greater Mass Noi ci vediamo Col prossimo video Spero tanto che Vi siate divertiti E Ricordatevi di lasciare Un bel mi piace Solo se ne avete voglia E solo se reputate Il video Abbastanza valido Che dirvi Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti